Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di Kagegurui e del gioco d'azzardo, ma lo faremo in maniera leggermente diversa rispetto al solito. Quindi cominciamo subito col video. Kagegurui, giocatore compulsivo che è spinto da un desiderio quasi carnale e dal piacere del rischio che il gioco d'azzardo provoca. Questa è la definizione di Kagegurui che più o meno ci viene data nell'anime e nel manga. Poi vi faccio una piccola citazione proprio tratta da questo anime che è Il gioco d'azzardo è un veleno crudele che cambia per sempre le persone. Ora, questo è solo l'incipit di quello che sarà il video, ma prima di tutto questo facciamo un balzo nel passato perché andiamo a scoprire le origini del gioco d'azzardo. L'attività giocosa che concerne la manipolazione di elementi aleatori, quali i numeri o i simboli, è la base per cui si è formato il gioco d'azzardo. Nel tempo si sono sviluppate diverse tipologie di gioco sulla base del rischio e sulla base del caso. Non per niente esistono tracce già in archeologia di quelli che potrebbero essere i resti di dadi o simili. Troviamo anche resti nei manoscritti delle antiche civiltà orientali, delle dell'Egitto, della Cina, del Giappone, dell'India, ma anche in errazioni sull'antica Grecia dove appunto si facevano delle scommesse sui risultati degli indovini e su quelli dei giochi olimpici. Proprio rifacendosi ai giochi olimpici, quindi ai giochi, ma quelli di Roma, si poteva anche scommettere sui gladiatori, su chi fosse stato il vincitore o il perdente. Questa veniva detto munera. La diffusione globale del gioco d'azzardo trova proprio conferma nell'etimologia della parola stessa, perché la parola azzardo deriva dal francese azard, che a sua volta deriva dall'arabo az-zard, che appunto vuol dire dado, che è uno dei primi simboli o dei massimi simboli per quanto riguarda appunto il gioco d'azzardo. Ma ora, dopo aver fatto questo piccolo preambolo storico, dobbiamo fare un'altra considerazione. Che cos'è il gioco d'azzardo in Italia? Il gioco d'azzardo, secondo l'ordinamento penale italiano, è una tipologia di gioco nella quale ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è completamente dovuta al caso, quasi sempre aleatoria. Esso consiste nello scommettere beni per lo più denaro sull'esito di un evento futuro. Per tradizione le quote si pagano in contanti. Questo evento può verificarsi nell'ambito di un gioco di società come la roulette o di una gara come le corse dei cavalli. Ma in linea di principio quasi tutte le attività che presentano incertezza sul risultato finale possono portare a scommettere, quindi scommesse a scopo di lucro e quindi diventare un gioco d'azzardo. Ora, questo è un piccolo preambolo. Prima abbiamo fatto la parte storica, poi abbiamo fatto che cos'è il gioco d'azzardo in Italia ma vi faccio anche un piccolo numerino per quanto riguarda l'Italia perché magari se uno ci pensa dice vabbè che cosa potrebbe mai essere il gioco d'azzardo e invece in Italia il volume di denaro giocato è nel 2019 del valore di circa 110,54 miliardi di euro. 110,54 miliardi di euro. Cioè ragazzi è una cifra esagerata, spropositata che non avrei mai pensato che veramente potesse essere giocata in Italia in una nazione come la nostra così alta, cioè come cifra. E c'è da dire anche un'altra cosa, che questo numero tra l'altro è in aumento nei vari anni quindi il 2018 era più bassa, il 2017 era ancora più bassa per capirci. Ma voglio arrivare dopo a quella che è la particolarità, la metto tra virgolette, del gioco d'azzardo perché adesso abbiamo visto solo la roulette, abbiamo fatto un piccolo cenno a quello che potrebbero essere le possibilità dei giochi d'azzardo, alle corse dei cavalli, ai dadi e niente più. Ma andiamo un attimo in Giappone perché scommettere con parsimonia non ha significato. Diceva Yukio Mishima, in Giappone sono circa 3,2 milioni i giapponesi dipendenti dal gioco d'azzardo tanto che il paese sta cercando di mettere appunto delle misure cautelari proprio al riguardo. E come abbiamo fatto un po' per il gioco d'azzardo in generale, parliamo invece della diffusione del gioco d'azzardo in Giappone perché diffusosi negli anni 50 il Pachiko è il gioco più comune e conosciuto anche all'estero. È un po' un mix tra un flipper e una roulette, quindi già lì abbiamo due giochi, uno dove ti diverti tanto un altro invece dove il caso è allo stremo proprio. Sono diffusi molti anche i giochi di carte, in particolare quelli che prevedono l'utilizzo di mazzi di carte Anafuba o Kabufuba e che si possono giocare in due. Queste carte sono caratterizzate da uno spessore maggiore e da una grandezza minore rispetto alle classiche carte di gioco. Le Anafuba, carte dei fiori, rappresentano 12 fiori diversi per ogni mese dell'anno con dettagli che aumentano il valore del gioco chiamati Koikoi. Formando alcune combinazioni si possono fare più punti ed è curioso come notare come la parola Yakuza derivi proprio dalla combinazione delle carte Yakuza che appunto sarebbero 8-9-3. E c'è un'altra curiosità perché anche il trio Inoshikachou, il nome che prende il trio Inoshikachou, potrebbe derivare dalla combinazione di questo gioco di carte oltre che appunto all'inizio dei tre nomi dei personaggi. Con queste poche parole e queste poche informazioni avete capito già quanto è radicato il gioco d'azzardo nel mondo giapponese. Quindi forse proprio questo è uno dei motivi per il grande successo di questa serie Kagegurui che abbiamo citato all'inizio. Ma l'andremo a citare più volte perché in Kagegurui si è proprio pazzi per le scommesse. In Kagegurui mette in risalto il ventaglio infinito quasi di giochi che si possono proporre come giochi d'azzardo perché se nella nostra mente quando si parla di gioco d'azzardo si ha a che fare o comunque ci vende a pensare solo la roulette, solo la slot machine, solo la corsa dei cavalli in questo caso, i dadi o le carte, il poker, in realtà ce ne sono talmente tanti che noi manco immaginiamo. E alcuni sono anche divertenti, molto probabilmente potrebbero essere giochi divertenti da portare in una serata con gli amici ma senza scopi di lucro, senza doppi fini. E quindi già lì andiamo a vedere come appunto il gioco d'azzardo non ha una sola forma ma ne può avere tante. Quindi di conseguenza anche le persone che possono essere coinvolte sono in numero maggiore rispetto magari se ci fossero meno giochi a disposizione. Ma come dicevamo prima, basta che ci sia il caso a determinare una parte degli eventi e già lì qualcosa si innesca nel cervello di alcune persone. Oltre questo però, oltre quindi una cosa che secondo me è la base di Kagegurui, notiamo una piccola particolarità che potrebbe sembrare cringe, ma per chi ha delle testimonianze, in realtà è un po' l'esagerazione di quello che è il sentimento principale. Quindi l'adrenalina che si prova nello scommettere. Perché in Kagegurui vediamo molte volte ragazze bagnarsi, ecco, perché si sta scommettendo, perché si sta per aspettare questa risposta, quest'esito fatidico che appunto fa salire l'adrenalina e quindi questo istinto che si ha all'interno. Allora cosa succede? Quello esiste veramente, l'adrenalina che si prova nello scommettere c'è veramente, quindi c'è qualcosa di vero e di studiato alla base di Kagegurui sotto questo aspetto, l'unica cosa è che viene esasperata nella sua forma, perché ci viene fatta vedere in maniera molto da fanservice sotto questo aspetto, e poi altro tasto particolare è quello dell'utilizzo per la maggior parte di ragazze. Va bene il fanservice, perché lì è tutta fanservice la parte delle ragazze, ma potremmo anche pensarne in questo modo. Noi siamo soliti immaginare un uomo che gioca d'azzardo, ma comunque nel gioco d'azzardo, ahimè, il numero delle donne è sempre più in aumento. Quindi anche questo fa capire come con l'evolversi del tempo e quindi magari delle tecnologie, delle idee, poco a poco si riesce a coinvolgere anche un ramo o una fetta di pubblico che prima non avevi a disposizione. E poi dobbiamo dare anche merito all'animazione, perché l'animazione stesso, i tagli che vengono fatti molte volte nelle parti finali degli episodi, creano quasi una dipendenza. In che senso? Si è portati a vedere l'episodio successivo. E questo potrebbe essere anche un filo conduttore con quello che è il gioco d'azzardo. Quindi il vedere, il voler vedere cosa succede dopo, noi lo facciamo in maniera magari sempliciotta, quindi semplicemente voler conoscere quello che succederà, è comunque un qualcosa che si vive anche nel gioco d'azzardo. In quel caso però c'è qualcosa di molto più importante sotto. E poi passiamo a un'altra cosa importante, che è la società che è creata all'interno di Kakegurui. Kakegurui è ambientato in un istituto dove appunto è basato tutto sulle scommesse, ma notate bene perché è gestita da un consiglio studentesco. Il consiglio studentesco è quasi un chiaro riferimento un'organizzazione che manipola il gioco d'azzardo ma nella vita reale. Quindi ragazzi, preso così in maniera leggera, Kakegurui è semplicemente fanservice e un po' di gioco. Ma se si va a studiare un po' più nel dettaglio quelle che sono le cose che ci vengono proposte, allora escono fuori un bel po' di argomenti. Ovviamente l'argomento principale è questo. Ho avuto anche delle testimonianze per quanto riguarda il gioco d'azzardo, quindi vi posso dire che non è solo la persona stessa, quindi lo scommettitore a rimetterci in alcuni casi, ma è l'intera famiglia a rimetterci o in alcuni casi proprio a salvare invece quello che è lo scommettitore. Mentre in altri casi purtroppo c'è anche gente che si è giocata la casa nel vero senso della parola. E questa cosa dispiace veramente tanto perché poi si finisce che se nel primo caso la famiglia è riuscita a salvare il tutto, nel secondo non ce l'ha fatta e quindi hanno dovuto venderla per davvero e andare a vivere da tutt'altra parte. In tutto questo troviamo una molteplicità di personaggi come abbiamo citato prima, tutti con una loro particolarità, dalla mente riflessiva fino ad arrivare a quello iperimpulsivo, ma senza tralasciare mai l'aspetto principale, quello della dipendenza da gioco. Ora ragazzi siamo arrivati alla fine del video, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, vi ricordo di mettere mi piace se il video vi è piaciuto, inoltre commentate dicendomi se anche voi avete visto Kakigrui, se non l'avete visto, se vi piace questo genere di video, quindi video un po' più ragionati sugli anime e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando è importante iscrivetevi al canale. Grazie ancora di tutto, grazie sempre per il supporto, vi do appuntamento al prossimo video e vi saluto come sempre dicendo Sayonara! Grazie a tutti!